Non c'è una canzone a sto paese Andò sa tutto sento in parabese Che tutti chi si sente in mentale Possibile che sto paese andrò a te vero C'è gente a sto paese sa d'accordo Mettiamo pure atti russi che sono Buongiorno, buongiorno, buongiorno Oggi è martedì, martedì 24 24 marzo, una bellissima giornata Un buon sole E allora, e allora Si risveglia la primavera Barletta Grande vittoria del Barletta ieri A Martina Franca Complimenti ragazzi E allora, e allora Vediamo, questa è la canzone che vorrei fare E poi sono le vecchie palazzine Questa è un largone Questa è la chiesa In piedi della chiesa Questa è il grande largone Vedete? C'è una storia per i ragazzi Dei ragazzi dell'argone Molta gente E grazie signor sindaco di stacettè E a cica vento torna a comandare E si 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 ma parlo Tornare a quel l'italberge A proposito di ospedali Ma io dico scusate per le armi, per le cose, cercate di fare ospedali decendi via Monticchio e allora, e allora, dicevo, abbiamo delle strutture veramente abbandonate, tipo l'ospedale vecchio, anche fare dei piccoli reparti che non danno fastidio, perché non si può vedere gente, non si può vedere gente in dei corridoi, questi litri a Puget, o barrile a Puget, dai, ne sapevo, a caso di Stamidò 2015, signori, a caso di Stamidò 2015, cercate di essere un rispetto per la nostra umanità, dai, è una brutta cosa, dai, non voglio continuare, anche perché questo non è un problema solo di Barretti, è proprio dell'Italia, e parliamo anche dei problemi dell'Italia, anche dei due ragazzi Marò, perché è un'altra cosa scafosa, un'altra cosa scafosa, ma scafosa scafosa, non mi permette di fare una cosa del genere, l'america, i bombardevano, a prendere due anni dai dai, vergognoso, l'italia, l'italia raspecchietto e niente dai, oggi è martedì, martedì 24 ripeto, una bellissima giornata, un buon sole un buon sole qua si va a scuola stamattina, si va a scuola stamattina allora, allora, abbiamo assaggiato ieri la pizza Eraclio da mattone mamma mia che pizza, mamma mia che pizza oltre Barlittà Vestimo c'è anche la pizza Eraclio del campione del mio campione, anche perché lui l'ha vinta la pizza Eraclio Michele Cascella, complimenti Michele, bravissimo Michele, complimentissimo mi saluto a Domenico, a Carlo, a Gino e tutta la pizzeria mattone grandissimi amici miei, grandissimi amici miei anche se Domenico è mio fratello e niente dai, oggi vi auguro un buon martedì, un buon sole non vi spugge da sé, che è da Giacchina che è da Giacchina, che è da Giacchina e da Barlittà Vestimo, le loro si che vi auguro il meglio un saluto a tutti gli amici di fuori sempre come al solito ciao